Le trincee di Federico Pizzarotti sono la sua giunta, il gruppo consigliare dei 5 stelle e il web, che anche in queste ore solidarizza largamente con lui. Le tracce dei suoi detrattori online sono quasi invisibili, a riprova che il popolo grillino della rete è praticamente tutto dalla sua parte. Dopo i violentissimi attacchi subiti è proprio questa marea di solidarietà telematica che consente al sindaco di respirare. Nonostante siano questi i giorni peggiori per lui dall'inizio del mandato, attaccato duramente sul blog di Grillo, sferzato dal nuovo gruppo dei 5 stelle di Parma e provincia, martoriato dall'opposizione e con in più la grana di Parma Infrastrutture, per la quale il PD locale gli attribuisce responsabilità legate a mancata trasparenza e inefficaci procedure per ridurre realmente l'indebitamento di quella ed altre partecipate. Pizzarotti comunque resiste, anche se Giovanni Favvi, all'epurato simbolo dell'integralismo grillino, ha spiegato lo scenario. Pizzarotti ha detto è un espulso che cammina. Esplicito anche Valentino Tavolazzi, altro espulso della prima ora, che si rivolge a Pizzarotti via Facebook. I tuoi tentativi di far passare l'idea che tra te e Grillo tutto vada bene sono inutili, poco convincenti e anche dannosi per la tua credibilità. Per Tavolazzi dunque il primo cittadino dovrebbe uscire allo scoperto e lo spiega. Sarai espulso ma potrai continuare a governare la città al meglio, come hai fatto finora. E se Pizzarotti non potesse contare sulla maggioranza consigliare, Tavolazzi è ancora più esplicito. Additerai i responsabili alla città, andrai a nuove elezioni, che sicuramente vincerai con le sole tue forze e il sostegno dei cittadini che ti apprezzano. Fallo per Parma, conclude Tavolazzi, che come ben sai è più importante di te, di Grillo e di Casaleggio.